In questo video mostreremo come registrare l'incasso di una rata. Clicca su movimenti. Clicca su nuovo. Clicca su incassorata. Ora, seleziona dall'anagrafica la persona che ha effettuato il versamento, l'unità immobiliare di appartenenza e la scadenza relativa alla rata corrisposta. Ora, non resta che inserire l'importo versato e cliccare su OK per confermare. Puoi visualizzare il prospetto rate aggiornato cliccando su home e subito dopo rate. Cosa hai imparato in questo video? Hai acquisito le conoscenze necessarie per gestire il versamento delle rate dei condomini. Guarda il prossimo video.